Oggi vedrete cosa ci è arrivato dalla Cina e rimarrete colpiti dalla loro creatività. Se ai vostri amici piace leggere libri, ecco un'idea regalo. I cinesi ci hanno inviato tre pacchetti in cui abbiamo trovato un panda, un gatto rosso e un topo viola che sembrano stecchiti. Hanno corpi completamente piatti, ma teste voluminose, il che li rende dei segnalibri molto simpatici e graziosi. Una volta inseriti all'interno, gli animali sembrano essere stati spiaccicati dalle pagine del libro, gridando aiuto. Se leggessi libri sarei molto felice di ricevere un regalo così originale, perché non ho visto segnalibri del genere da nessuna parte. A prima vista, questo piccolo clistere con la punta d'acciaio sembra completamente inutile. Forse può essere usato per soffiare via le pulci da un gatto, ma in realtà spesso mi manca un oggetto del genere. Ad esempio per pulire le fessure dello smartphone, il caricabatterie, la scheda video o la tastiera del computer. E soprattutto per pulire le cose che non possono essere toccate con nulla. Ad esempio l'obiettivo o il sensore della fotocamera. Mi piacciono molto gli oggetti economici, ma utili. I cinesi mi hanno anche inviato questo strano razzo, con questo piccolo oggetto appeso. Quindi togliamo la copertura protettiva trasparente e vediamo la capsula di salvataggio rotonda con morbidi cuscinetti di silicone all'interno. Ma non è un astronauta che volerà in questo razzo, bensì un normale uovo di gallina, che inseriamo all'interno e chiudiamo. L'unico problema è che la capsula è troppo piccola per la maggior parte delle uova che abbiamo, quindi abbiamo scelto la più piccola. Sembra che in Cina ci siano uova di dimensioni ridotte. Quindi rimettiamo insieme il razzo e lo facciamo girare a velocità incredibili. Il risultato è un uovo molto particolare, che dobbiamo prima far bollire per poter vedere poi il risultato finale. Vedendo l'acqua bollire aspettiamo altri 10 minuti e poi tiriamo fuori il nostro uovo dalla tazza. Vi ricordo innanzitutto come si presenta un uovo normale quando l'albume e il tuorlo sono posizionati come di consueto. Ora rompiamo con attenzione il guscio e vediamo cosa abbiamo. Wow! Nel nostro uovo spaziale l'albume e il tuorlo si sono completamente mescolati e trasformati in una sostanza omogenea. I vostri ospiti rimarranno sicuramente sorpresi nel vedere un uovo di questo tipo. Inoltre ora non c'è più bisogno di sporcare il bicchiere mescolando l'uovo ogni volta che voglio fare un omelette. Posso semplicemente mescolare il tuorlo e l'albume all'interno dell'uovo con l'aiuto del nostro razzo. Il risultato è eccezionale. Guardate cosa hanno inventato i cinesi questa volta. In una confezione sterile c'è un cerotto per le ferite. Faremo una dimostrazione su una deliziosa coscia di pollo graffiata. E che ora ha bisogno di essere curata. Strappiamo il nastro adesivo dal lato destro del cerotto e lo attacchiamo sul lato della lesione. Facciamo lo stesso con l'altro lato. Ora non resta che tirare i braccetti e congratularsi per il lavoro ben fatto. Cosa che prima non avremmo potuto fare senza un chirurgo. E ora grazie ai cinesi è possibile. A prima vista sembra una lampadina normale. Ma in realtà è una cassaforte segreta per oggetti preziosi. È vuota all'interno. Potete tenerci dei gioielli. Una chiavetta con foto segrete. O ciò che resta del vostro stipendio. Chiudete il tutto e avvitatelo semplicemente a una lampada da tavolo o in qualsiasi altro posto. Ora se i ladri entrano in casa vostra non troveranno mai i vostri oggetti preziosi. Perché non penserebbero mai che potrebbero essere all'interno di una lampadina. Allo stesso modo non penseranno di cercarle in un normale caricabatterie. Anch'esso è una mini cassaforte. Completamente vuota all'interno. Esternamente è quasi indistinguibile da quello vero. Ho anche ordinato questo enorme powerbank da Baseus. Questo marchio produce prodotti davvero buoni. E questa powerbank ha una capacità di 30.000 mAh. E 65 Watt di potenza. Il pannello dello slot presenta una grande varietà di connettori per la ricarica. Quattro porte USB di cui una ricarica rapida. E porte per piccoli connettori. Il pulsante laterale mostra la percentuale di carica sul display. È così potente da ricaricare completamente il vostro portatile senza alcun problema. Abbiamo deciso di testare se è davvero in grado di caricare così tanti gadget. Compreso un computer portatile allo stesso tempo. E sembra funzionare. Così, in caso di blackout, potrete ricaricare non solo le vostre cose, ma anche quelle dei vostri vicini. Probabilmente è uno dei gadget più strani in assoluto. Ma l'ho ordinato solo per dimostrare che queste cose esistono. No, Cookie, non preoccuparti. Non è una vera pistola. Anche se può sparare qualcosa di interessante. Basta prendere un normale Chupa Chups e inserire lo stick in uno speciale tubore trattile. Ora rimuoviamo la pellicola del lecca-lecca. Otteniamo una pistola che, premendo il grilletto, apre la botola e spara la caramella in avanti. È utile se non avete intenzione di mangiarla tutta in una sola volta. Ma volete solo leccare un po'? È possibile riporlo in tasca, dove rimarrà al sicuro in attesa della prossima sessione di leccate. Le persone usano spesso delle lamette per rimuovere gli adesivi dagli oggetti, essendo molto affilate. Ma allo stesso tempo questa affilatura può giocare a sfavore delle dita. I cinesi ci hanno quindi inviato un set composto da lame di buona qualità, con questo supporto di plastica. Grazie al quale le lame sono quasi completamente nascoste. Questo rende dieci volte più comodo lavorare con le lame e, soprattutto, è più sicuro, perché ci si aggrappa solo al supporto di plastica. E quindi non si rischia il dito. Non ho potuto resistere all'idea di ordinarlo. Nella confezione troviamo il telecomando e questo piccolo robot astronauta con una tuta spaziale. Sembra davvero fantastico e sono sicuro che non vedrete l'ora di vedere cosa è in grado di fare. Dietro le sue spalle vediamo uno speciale zaino con cavi che si legano al casco. La testa è completamente mobile e può essere staccata grazie a dei magneti. Sullo zaino sono presenti anche i pulsanti di controllo e una porta per poterlo ricaricare. Lo sistemiamo su uno speciale cuscinetto e togliamo la pellicola protettiva. Ora lo mettiamo sul tavolo vicino al letto e lo accendiamo. Il casco dell'astronauta proietta immediatamente un'immagine incredibile, bella e realistica dello spazio. È come se il soffitto fosse l'universo con la via Lattea e centinaia di piccole stelle. Cookie è completamente scioccato e non capisce cosa stia succedendo. Credo che pensi che il nostro soffitto abbia un portale per un altro universo. È inoltre possibile utilizzare i pulsanti per accendere e spegnere le stelle, per regolare le luci del cosmo e la velocità di rotazione della galassia. Se mi avessero dato un oggetto del genere da bambino, probabilmente sarei impazzito guardando queste proiezioni e avrei dormito ogni notte immaginandomi di volare nelle profondità dello spazio.